Fun! Numbers! Bene, andate a fanculo, me li vado! Bene, e ora passiamo alla notizia vera e propria. Signori, sono lieto di comunicarvi che Super Mario Odyssey ha venduto più di un milione di copie al lancio! Che succede qui, eh? Perché non sono stato invitato anche io? Luigi, oh, carissimo amico mio! Che fai qui, amico? Avete pubblicato un altro videogioco e non mi avete avvisato! Un altro videogioco? Ma di che stai parlando, Luigi? Torna a casa! Oh, giardo, stai mettendo! Avete pubblicato un altro videogioco e non mi avete aggiunto tra i personaggi giocabili! Luigi, non potremmo mai pubblicare un gioco senza di te, giusto ragazzi? Sì, già! Chi hai detto di essere? Visto? Allora, spiegami questo Super Mario Odyssey! Chi? Super Mario Odyssey! Ok Luigi, ora che tu te ne vada! Chiudi quella cazzo di bocca, Mario! Perché non mi avete messo in Super Mario Odyssey? Eravamo corto di budget, noi... Ma vedi di tacere! Ok... Ora toglierete quel gioco dal mercato e lo pubblicherete di nuovo dopo avermi aggiunto tra i personaggi giocabili! Ciao ragazzi! Se il video vi è piaciuto come al solito mettete un bel forno in alto su! E ci vediamo... Ue 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 domenica! Ue 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 domenica!